Nel futuro dell'Inter irrompe un nome a sorpresa che può essere la soluzione a un'esigenza che ha manifestato Mr. Inzaghi. Le recenti dichiarazioni pubbliche di Mr. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, non lasciano spazio all'interpretazione. Il tecnico della formazione campione d'Italia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dell'esordio stagione contro il Genoa Amarassi, in programma sabato 17 agosto 2024 dalle 18.30, confermando la grande attesa per questo debutto, al contempo però ammette che la seconda stella rappresenta una responsabilità e anche una sfida per cercare di fare ancora meglio. In questo c'entra anche il mercato, ovvero come si semina per il futuro. Da questo punto di vista pur dicendosi soddisfatto per la squadra che ha a disposizione per la nuova annata, il tecnico non nasconde che aspetta ancora qualche altra operazione per puntellare un reparto su tutti, ovvero quello difensivo, fino a fine mese la sessione è aperta. Noi abbiamo una mancanza nel reparto difensivo e ne sto parlando con la società. Questi dialoghi dovrebbe facilitare il cammino a una nuova trattativa che consente te all'Inter di prendere qualcun altro, come affermato dall'allenatore nerazzurro. A sorpresa il profilo potrebbe essere sudamericano o meglio argentino, alla stregua del capitano Lautaro Martinez, il quale ha appena siglato il rinnovo fino al 2029. Inter, Inzaghi attende un nuovo rinforzo in difesa, può arrivare dall'Argentina. Secondo le informazioni trasmesse da Sport Italia, la novità difensiva dell'Inter potrebbe essere diversa ovvero riguardare un investimento anche per il futuro, attraverso un profilo giovane tutto da testare. Si tratterebbe nella fattispecie di Thomas Palacios, difensore classe 2003, che attualmente milita nell'indipendiente Rivadavia, formazione di Mendoza che partecipa al massimo campionato argentino. Il cartellino del difensore di grande prospettiva però è di priorità del Talleres, al quale è legato da un contratto fino al 2025. Per l'Inter sarebbe una vera e propria scommessa, perciò un calciatore da inserire con i giusti tempi sia di adattamento sia alla luce dell'esperienza che appena comincia ad accumulare. Il 21N di piede sinistro gioca nella posizione di centrale ed è nazionale under 20 con l'albiceleste, potrebbe anche trattarsi di un nome per il futuro da tesserare al momento insieme a un profilo più navigato. Ad esempio, negli ultimi giorni sta rientrando in orbita Nathan Zizi, a cui l'Inter ha iniziato a interessarsi a luglio. Il mancino classe 2005 del Nante è anche lui un mancino con ottimo senso della posizione che potrebbe fare al caso delle necessità di Inzaghi ma anche della linea verde adottata dalla dirigenza nerazzurra. I prossimi giorni aiuteranno a svelare le carte del club.